Vincenzo Vita, ex parlamentare, studioso e conoscitore dei vecchi e nuovi media, masmedeologo, presidente di Arts, associazione Arts. Come vede la politica adesso italiana, questa politica a sinistra, questo tentativo di ricomporre pezzi e diaspore? Lo vedo con una speranza, non so come andrà a finire perché le dialettiche intestine sono sempre molto positive nei mondi della sinistra, tuttavia c'è un imperativo categorico, fare una lista unica onde evitare che pezzi interi di società non trovino rappresentanza nel Parlamento. Aggiungo però che l'attività proprio dell'Ars, che lei ha così cortesemente evocato, vuole mettere in testa i contenuti, non basta solo parlare di sigle, di nomi, di liste, bisogna avere su punti essenziali un'unità di intenzione, se no finisce, come è già successo in fassato, con le varie liste arcobalene. Grazie